Intrecciatosi con l'anno della vita consacrata nella sua fase finale, è evento di grazia, luogo teologico della misericordia divina, da cui sgorga ogni vocazione e missione. Come l'anno della misericordia è stato aperto sotto la protezione di Maria Santissima, così l'anno della vita consacrata ha avuto il suo coronamento in una festa mariana. Maria, serva del Signore, con Cristo suo Figlio, sono per ogni consacrato e consacrata modelli di donazione e di servizio. Servire è il tema che le giovani qui presenti hanno scelto per questo momento di preghiera. L'icona biblica, la lavanda dei piedi, è icona che ci proietta già nella luce di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Ad ogni intercessione invochiamo insieme lo Spirito Santo con il canto. Cantiamo il ritornello, Vieni Santo Spirito di Dio. Amén. Amén. Papa Francesco ci invita ad essere gioiosi perché il mondo ha bisogno della gioia dei consacrati, ad essere profeti che svegliano il mondo, ad essere esperti di comunione. Ti chiediamo, Spirito Santo, donaci la capacità di trasmettere ai fratelli che incontriamo serenità, profezia e comunione. Spirito Santo, donaci la capacità di trasmettere ai fratelli che incontriamo serenità, Papa Francesco ci invita all'esperienza della multiculturalità, ad essere persone aperte alla missione, ad andare incontro ai fratelli nelle periferie esistenziali, ad essere capaci di coraggio e di gesti di misericordia. Ti chiediamo, Spirito Santo, fa che impariamo a metterci in ascolto profondo di Dio e dell'uomo d'oggi per presentare quotidianamente a te i bisogni profondi a cui l'umanità anela. La Vergine Maria ci insegna a rispondere con prontezza e fede alle proposte di Dio. «Sono la serva del Signore», risponde all'angelo, ci insegna a metterci a servizio dei fratelli vicini e lontani. Ha guardato all'umiltà della sua serva, canta nella casa di Elisabetta. Ti chiediamo, Spirito Santo, fa che impariamo da lei la prontezza, la docilità e l'umiltà dei servi di Dio. Spirito Santo, fa che impariamo da lei la prontezza, la docilità e l'umiltà dei fratelli vicini e l'umiltà di Dio. Gesù, Maestro e Signore, ci ha dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi, dice ai discepoli nell'ultima cena. Ci insegna a farci servo, a cingersi il grembiule, a sapersi inginocchiare. Ti chiediamo, Spirito Santo, fa che impariamo che il più grande è chi più sa servire, perché grande è soltanto l'amore. Spirito Santo, fa che impariamo da lei la prontezza, la docilità e l'umiltà di Dio. Spirito Santo, fa che impariamo da lei la prontezza, la docilità e l'umiltà di Dio. Ascoltiamo dal Vangelo di Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. La parola di Dio ascoltata ora la contempliamo attraverso il canto Servire e regnare Grazie. 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 perché il grande è soltanto l'amore. A che pariamo, Signore, a te, che più grande e più santo è pire, sia passare e ci si sta a creare, perché il grande è soltanto l'amore. Benediciamo il Signore. Benediciamo la grazia di Dio. Accogliamo adesso sul palco Madre Giovanna Sartori, Presidente dell'Usmi, e Don Enrico Stasi, Presidente della Cisma. Con loro accogliamo con gioia anche Monsignor Cerrato, Vescovo di Ivrea, e rappresentante per la CEP e per la vita consacrata, e sua eminenza, Cardinal Joao Braddia Witz, il prefetto della Congregazione dei Religiosi. Applausi. Grazie. Grazie. Permetta che apporgerle il saluto dei religiosi del Piemonte sia un figlio di San Filippo Neri, inviato vescovo in Piemonte al termine del servizio alla mia congregazione, durante il quale ho avuto la gioia e eminenza di accogliere la sua visita al nostro capitolo generale del 2012. Io ero ormai in partenza, avevo finito il mio mandato, ma ricordo molto bene la sua visita e le belle, belle cose che ci aveva detto. Grazie per aver accettato di concludere con noi l'anno della vita consacrata, durante il quale, penso di poter dire, un momento speciale per noi è stato il pellegrinaggio che abbiamo fatto a Castelnuovo Don Bosco, lo scorso 23 settembre, dove abbiamo trovato ad attenderci due bellissime testimonianze di vita consacrata. Nel luogo della sua nascita terrena abbiamo trovato Don Bosco, fondatore della famiglia salesiana, ma in ragione della memoria liturgica che quel giorno si celebrava abbiamo incontrato anche San Pio da Pietralcina e abbiamo fatto memoria dei nostri santi fondatori, fondatori e fondatrici delle rispettive famiglie nostre, religiose, alla luce proprio di quanto il Santo Padre Francesco ci aveva ricordato nella lettera di indizione dell'anno della vita consacrata. Per i fondatori e le fondatrici, cito, la regola in assoluto è stata il Vangelo. Ogni altra regola voleva essere soltanto espressione del Vangelo e strumento per viverlo in pienezza. Il loro ideale era Cristo, aderire a Lui interamente, fino a poter dire con San Paolo, per me il vivere è Cristo. E allora questa luce eminenza abbiamo ascoltato là, in quel pellegrinaggio, la domanda fondamentale che è risuonata per tutti i consacrati, in modo speciale i consacrati in questo anno, anche se l'anno per la vita consacrata, come ben ci ha insegnato il Santo Padre, non valeva soltanto per i consacrati ma era per tutta la Chiesa. Ma noi l'abbiamo ascoltata in modo speciale, questa domanda. Se e come ci lasciamo interpellare dal Vangelo? Se esso è davvero, come dice Papa Francesco, il vademecum per la vita di ogni giorno. Se, e continuo a citare dalla lettera di indizione, Gesù è davvero il primo amore, eh, primi amori ce n'è sempre uno, primo amore, ma il primo che rimane anche l'unico. il primo e l'unico amore, perché soltanto se è tale possiamo amare nella verità e nella misericordia a ogni persona. Ecco, l'anno della vita consacrata, eminenza, abbiamo cercato di viverlo con tanto desiderio, con le forze che abbiamo, con l'aiuto di Dio che abbiamo implorato. Abbiamo, all'interno del grande messaggio che ci è venuto, anche dalla lettera, dal discorso con cui vostra eminenza ha presentato la lettera di Papa Francesco, all'interno abbiamo cercato di cogliere davvero l'essenziale, davvero l'essenziale. Un vero rinnovamento. Questo anno della vita consacrata, nella sua ultima fase, incrocia, o meglio si inserisce, o meglio ancora continua, nell'anno santo della misericordia. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre, ha affermato il Papa in apertura della bolla di indizione del Giubileo. Bene, allora Gesù Cristo, primo e unico amore, ha dunque il volto della misericordia. E la misericordia è un volto, ha un nome e una persona. Lui, Gesù Cristo, vivente nella Chiesa, da accogliere, a cui riferirsi, da cui incessantemente ripartire. Grazie eminenza per quanto vorrà dire, per aiutarci a continuare il cammino, perché si chiude l'anno speciale della vita consacrata, ma grazie a Dio non si chiude la vita consacrata e soprattutto non si chiude l'impegno. Grazie. In continuità con quanto Monsignor Cerrato ci ha detto, anch'io con grande gioia e piacere saluto tutti voi, religiosi e religiose, che siete convenuti a questo convegno, preparato con cura e attenzione, ecco, come ha detto giustamente Monsignor Cerrato, non alla fine dell'anno della vita consacrata, ma in continuità con questo anno, che ha significato per tutti noi, ma ci auguriamo anche per la Chiesa, anche per i fratelli e le sorelle laiche, un tempo di approfondimento di iniziative significativi e toccanti, ma soprattutto, penso, ha voluto metterci di fronte alla nostra sequela di Cristo per essere più consapevoli e capaci di affrontare le sfide di un mondo e di una Chiesa che ci chiedono una nuova e più coraggiosa presenza profetica. E' questo che ci ha chiesto anche il Santo Padre, mai un religioso deve rinunciare alla profezia. E questo lo dobbiamo sentire soprattutto noi, religiosi e religiose di questa terra piemontese, carica di profezia nella vita di tanti santi e sante, di fondatori e fondatrici, nati nei solchi della grazia di Dio, di questa terra benedetta. E oggi siamo qui proprio perché vogliamo continuare a riflettere, a interrogarci sulla bellezza della nostra vita. Per questo voglio salutare in modo particolare e con riconoscenza, anche a nome di tutti voi, religiosi e religiose presenti in Piemonte-Valdaosta, un saluto caro e particolare al Cardinal Prefetto Monsignor Bratz de Aviz, che ha accettato di essere qui con noi, di darci la sua parola autorevole, ma sicuramente anche carica di affetto e della gioia per l'esperienza appena vissuta del convegno che ha occluso l'anno della vita consacrata. Grazie davvero di cuore e eminenza. Saluto e ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Cerrato, che ci segue sempre come Vescovo incaricato dalla CEP per la vita consacrata. Saluto anche con stima e riconoscenza i Vescovi intervenuti, i Vicari Episcopali per la vita religiosa, che sono qui presenti. Allora ci auguriamo che sia per tutti un incontro ricco di luce e soprattutto ci stimoli a continuare ad abbracciare il futuro, ma anche il presente, con speranza, nella comunione dei diversi carismi e nella gioia di essere per il mondo il volto misericordioso, come ormai sentiamo da dire, misericordioso e amorevole di Dio Padre. Grazie e buona giornata. Alla fine, eminenza, l'ultimo saluto è quello del presidente della CISM, perché i religiosi un po' si perdono nella massa delle religiose, ma come ha visto c'è un nucleo fedele lì in mezzo. eminenza, eh? Bene, siamo contenti, molto grati. E bra, grazie alle sorelle che applaudono anche i religiosi presenti. Siamo molto contenti, eminenza, della sua presenza qui, perché lei, oltre che per il ruolo che esercita all'interno della Chiesa, è per noi testimone della gioia della vita consacrata, non solamente perché è brasiliano, ma perché crede realmente che l'unione con il Signore Gesù o da gioia oppure fa sfiorire le esistenze quando non c'è quest'unione. Qui sono rappresentati e presenti moltissimi religiose, anche molti religiosi, anche giovani religiosi, gli novizi salesiani, dico almeno la parte maschile, gli studenti in formazione, dalla famiglia del Cottolengo, i teologi, i giovani teologi, cioè gli studenti di teologia della famiglia salesiana, della congregazione salesiana, non solamente d'Italia, ma anche di molte regioni d'Europa. E in più moltissime suore giovani, come ha visto, è attorniato. Questa cornice è il segno che la vita consacrata è ancora molto vivace qui in Piemonte. Siamo figli di fondatori nati in questa terra, molti di noi, e desideriamo camminare insieme, camminare insieme come famiglie religiose, così come ci esorta il Papa, pregando insieme, riflettendo insieme, e speriamo anche progettando qualche opera, qualche presenza insieme. Grazie Eminenza, l'ascoltiamo volentieri. Allora, io vi saluto tutti, non cito le nostre autorità, perché già sono state citate, per non ripetere, perché alle volte ripetiamo e dopo stanca. Vorrei anche salutare in modo particolare quelle che sono nella sala accanto, meno male che mancano posti, quelle che sono con lo streaming, che ci vedono per i mezzi moderni. Voi siete qui in sala con noi, siete una unica sala con noi, e ognuno di voi che è qui, che è con noi, che è venuto per vivere questa mattinata insieme. Noi quando veniamo da Roma abbiamo l'obbligo di portare e l'abbraccio, il saluto di Papa Francesco, ma io lo faccio sempre molto volentieri. E anche nella benedizione finale che dopo chiederemo al Signore, vorremmo in modo particolare tenere presente che è la benedizione anche del Santo Padre. E così. Viviamo un momento impensabile nella Chiesa, non sappiamo spiegare questa cosa. Cioè non dipende solo da Bergoglio, c'è un qualche cosa di più, c'è Pietro, c'è Gesù. La Chiesa è così. Dicono che noi cardinali scegliamo le persone e lo Spirito Santo li fa, no? Perché non sappiamo bene noi cosa succede. anche perché l'abbiamo scelto molto rapidamente, in un giorno e mezzo solo. Porto anche i saluti di tutto il nostro di Castero. Siamo 40 che lavoriamo per voi tutti i giorni. Vogliamo dire che questo di Castero è vostro. Non vogliamo più essere solo i grandi sorvegliatori, no? Ma vogliamo essere gli amici che fanno scorrere il pensiero del Papa, la vita del Papa per la vita consacrata. In modo speciale porto il saluto del Secretario Carbaglio, l'Arcivescovo Francescano, che è con noi già da alcuni anni e che è un'anima speciale in due sensi. Prima perché è un uomo molto competente per la vita consacrata. Lui è stato generale dei Francescani, minori, per due mandati, ma anche in un primo mandato erano anche consiglieri. Allora 18 anni di vivere questa realtà lì nel governo. Dopo anche la seconda cosa perché è un uomo di estrema comunione. Sembra un novizio vicino a me, è una cosa che io non capisco. Solo godo di questo, godo immensamente perché io esco, lui rimane, io rimango, lui esce di qua e di là e non sentiamo nessuna differenza nel cielo di Castello va avanti. Questa è una grazia particolare veramente di questo periodo. Dopo dire che abbiamo, in questo anno della vita consacrata, abbiamo girato il mondo, veramente il mondo. Siamo andati ai cinque continenti e una delle cose più belle che abbiamo sentito non era tanto quello che dicevamo, ma dice noi siamo contenti perché voi siete venuti. E questa cosa ci ha un po' mosso dentro. Allora vuol dire che bisogna andare, bisogna uscire. E abbiamo incominciato a fare questo. Abbiamo visitato più o meno 30.000 trasfore religiosi in tutto il mondo. Naturalmente noi siamo molto di più, siamo un milione e mezzo, ma era già qualcosa perché siamo andati da tutte le parti. C'è tanto di vita consacrata nel mondo. C'è una presenza straordinaria anche nei posti impensabili, impensabili, dove c'è una, alle volte l'unica presenza della Chiesa è la presenza del consacrato. E questo ci dà una gioia immensa. Cioè noi vediamo che la Chiesa vive anche per i consacrati. Noi non siamo un appendice della Chiesa, noi siamo parte integrante della Chiesa. E allora in questo senso vorrei anche vivere con voi questo momento così, con semplicità, ma anche cercando di capire. Non potremo dire tutte le cose, ma dopo ci sarà anche il momento del dialogo e continueremo. Ho visto che avete messo qui questo titolo una vita religiosa a misura di Francesco. Io penso che sia a misura del Francesco Papa, vero? Eh sì, penso anche io. Io voglio un po' di più. Sì, perché adesso questo Francesco è dappertutto, eh? Adesso a Roma avevamo anche altri due capuccini santi, no? Che erano lì con noi, San Pio e San Leopoldo, no? 1.200 capuccini anche da noi e così via. E il coordinamento della vita consacrata mi aveva anche lasciato nelle lettere alcuni punti di questa vita di Francesco, di questa misura di Francesco che era espressa così, vita consacrata e chiesa in uscita. Indicando una parola di Francesco, chiesa in uscita, no? Chiesa di porte aperte. Dopo c'era un secondo, un secondo richiamo che era sinergia di comunione e misericordia. Questo generare questa realtà insieme, comunione e misericordia, che dopo, infine, al finale è la stessa cosa, solo che la misericordia indica di più l'essere di Dio come amore, ma in Dio. Ecco, quando ho sentito la prima volta questa chiesa in uscita o chiesa di porte aperte, io avevo l'impressione che era che noi aprissimo le porte della chiesa perché il popolo entrasse. Io pensavo così. e dopo ho capito che non è così. Cioè, è aprire le porte perché noi possiamo uscire e andare. È il contrario. Cioè, riprende la realtà di una chiesa totalmente missionaria. Cioè, noi non siamo fatti per essere dentro le quattro pareti delle nostre case. Noi siamo fatti per andare dappertutto. Anche le consacrate contemplative, quelle rimarranno sempre tra quattro mure, ma la loro anima deve essere un'anima mondo, aperta, che ci sostiene veramente lì dentro con questa realtà della preghiera e della vita del Vangelo dentro c'è la casa. E il Papa insiste molto anche che riguardo diciamo alla verità non dobbiamo cadere nella tentazione di pensare che la verità sia una dottrina. Adesso andando alla dottrina della fede ha ripreso fortemente questo discorso. La verità non è un'ideologia, non è un'idea, non è una tradizione, non è un codice morale. La verità è una persona, Gesù. È lì il problema fondamentale, cioè tra di noi non possono esistere solo scuole di pensiero, o è il pensiero e la vita di Gesù o non è niente, anche per i teologi, anche per i giuristi, anche per i moralisti, eccetera. oggi ho visto qui, non so se trovo la paginetta, ma ho visto per quelli che già hanno avuto la Messa, l'inizio della Messa parla proprio della misericordia, cioè lì il Salmo, no? Dice questa espressione proprio della misericordia, vedo se trovo qui, solo per ricordare, perché così è una cosa che troveremo tra poco, ascoltaci Signore, perché generosa è la Tua misericordia, nella Tua grande clemenza volgiti a noi Signore, nel Salmo 68. Vorrei anche dire dall'inizio proprio di questo nostro incontro ricordare che tra di noi se siamo veramente abbiamo questa intenzione possiamo avere questa presenza viva del Signore tra di noi che è una trovata fortissima del nostro tempo, cioè noi possiamo generare come Maria la presenza di Gesù qui nella comunità. La promessa di Matteo 18-20 cioè noi possiamo avere questo se vogliamo e allora non saremo noi con il nostro pensiero o chissà con la illuminazione appena di uno tra di noi che guiderà la comunità ma è la comunità che avendo questa luce questa luce può essere riconosciuta da quello che è diciamo messo come padre di quella comunità e questa è una maniera attuale molto per noi molto necessaria perché noi abbiamo bisogno della sapienza abbiamo bisogno che passi questa luce vera tra di noi perché per innamorarci bisogna che sia così perché altrimenti cade questa nostra forza dopo noi allora chiediamo questa grazia allo Spirito Santo per noi anche qui oggi naturalmente salutiamo tutti anche quelli che vengono da più lontano con questo freddo qualcuno ha dovuto alzarsi un po' prestino per venire va molto bene dalla valle d'Aosta di tutto il Piemonte e così via forse qualcun altro che viene anche da qualche altra parte vogliamo chiedere l'intercessione anche di Maria perché è la nostra madre e come il Papa ci ha rimesso nel cuore anche di San Giuseppe io ho incominciato ad amare più San Giuseppe dopo che Papa Francesco ma non perché nella Chiesa non c'era era che io avevo dimenticato questo adesso ho ripreso e San Giuseppe sta diventando un amico anche molto da vicino chi sono i consacrati bisogna allargare la nostra visione i consacrati sono donne e uomini che il Signore ha scelto per vivere il Vangelo nella forma della vita di Cristo e questa espressione è molto bella nella forma della vita di Cristo ci sono altri che vivono il Vangelo non in questa forma perché si sposano perché hanno un altro compito però noi abbiamo questo aspetto la forma di Cristo cioè questo essere come Gesù nel modo in cui Gesù ha vissuto e questo vale per uomini e per donne insieme per tutti i due perché Gesù non possiamo dire che lui è uomo e donna lui è uomo e non possiamo dire che Dio è solo uomo o donna ma è di più di uomo o donna però in Dio c'è tutta la realtà umana questi che vivono nella forma di Cristo non sono anche tutti della stessa vocazione anche questo dobbiamo cercare di capire meglio noi abbiamo una variegata forma di consacrazione molto ricca e la Chiesa già l'ha riconosciuta questa noi abbiamo un'immensa diversità di carismi per esempio consacrati e consacrate nel mondo individualmente o in comunità è il caso per esempio degli istituti secolari lì noi abbiamo gente che non esce dal mondo che non lascia una professione che alle volte non è nemmeno conosciuto conosciuta però che lavora e vive solo per Cristo nella forma di Gesù e sono moltissimi noi pensiamo che sono pochi ma sono moltissimi gli istituti secolari l'altra forma consacrate nel mondo individualmente o in comunità per questo già abbiamo detto consacrate a servizio immediato dei vescovi e della Chiesa e questi sono l'ordo virginum ho capito che qui ci sono molti dell'ordo virginum l'ordine delle vergini questa è una istituzione dell'inizio della Chiesa dal primo momento io ho saputo che anche in qualche posto hanno anche condotto delle parrocchie proprio per necessità con tanta libertà vedi come noi dobbiamo tornare a certe cose il prete faceva la sua parte però queste donne e anche altri come consacrati anche che fanno questa cosa o altri compiti gli istituti società di vita apostolica e qui anche ci sono queste forme diverse sono moltissimi e dopo consacrati e consacrate nella vita monastica e contemplativa e anche sono una moltitudine questi penso che ancora nel mondo sono 3500 monasteri è un bel numero siamo noi tutti insieme in queste varie vocazioni di consacrati noi siamo più o meno un milione e 500 mila persone c'è un bel popolo potrebbe essere anche una nazione sì alcuni di questi istituti anzi la più grande parte di questi istituti sono solo di diritto diocesano e questi non li conosciamo ancora perché non arrivano fino a Roma a non essere quando ci sono dei problemi e oltre questo c'è ancora un'altra realtà molto interessante anche che è in giro che noi abbiamo tutti i movimenti ecclesiali che hanno la vita consacrata inserita dentro il movimento ecclesiale questo dovrà provocare adesso un dialogo più intenso nostro dei due di Casteri per cercare di capire meglio questo cammino insieme anche aiutarci il Papa vorrebbe anche che queste nuove forme nascono ma nascono dritto ci sono tante cose belle ma ci sono anche alcune cose che non vanno noi seguiamo adesso una quindicina di fondatori che non sono fondatori sono persone squilibrate dovrebbero essere dimesse però andiamo con calma perché la misericordia aiutaci a camminare con un po' di cura dopo vorrei ancora ricordare che in questo momento della storia della Chiesa a 50 anni del Concilio Vaticano II noi siamo interpellati ad assumere un'esperienza più profonda di interculturalità e questo è una cosa che siamo in cammino perché alle volte abbiamo sbagliato pensando che una cultura è più grande dell'altra e questo è uno sbaglio le culture sono le culture non c'è una cultura diciamo per esempio europea o latinoamericana o non so asiatica che sia più grande dell'altra ci sono diversità di culture con valori più o meno prossimi al Vangelo però sono culture tutte sono culture questo dovrebbe aiutarci anche a un atteggiamento fraterno molto grande e di lasciare un po' uscire un poco dalla nostra sicurezza e entrare in questa diversità delle culture per aiutarci a capire l'apertura verso gli altri carismi è un'altra caratteristica di oggi cioè non possiamo più andare guardando solo la bellezza del nostro fiore bisogna guardare il giardino il giardino è più bello del fiore non è vero cioè tu guardi e ti piace il giardino però bisogna guardare tutto il giardino però certo il giardino non esisterebbe senza il fiore quel fiore lì allora ritrovare insieme questa capacità di cooperazione tra di noi l'ascolto profondo e il discernimento sincero degli appelli che ci vengono ci arrivano dagli altri dagli altri però bisogna che ci sia l'apertura altrimenti noi non non accettiamo riguardo a questo vorrei ricordare anche che il Papa mette cinque punti dei quali sempre stiamo adesso ricordando però che sono importanti allora entriamo proprio in questo la vita consacrata una vita religiosa a misura di Francesco cosa vuole primo punto abbiamo detto che sia sempre vero quello che ho detto una volta dove ci sono i religiosi c'è la gioia e qui bisogna cominciare a fare un'operazione plastica nel nostro muso che il nostro muso è diventato troppo lungo sì bisogna anche forse rinnovare un po' la pelle qui sopra perché è piena di rughe sì aprire di più la nostra faccia a un'espressione serena felice anche se abbiamo dei problemi o di salute o di vecchiaia o di crisi o di depressione o di mancanza di orizzonti cioè noi siamo chiamati a questa gioia che è una gioia vera a questa apertura con semplicità verso gli altri e dice il Papa anche noi come tutti gli altri uomini e donne proviamo le difficoltà noti dello spirito dice lui delusioni malattie declino delle forze dovuto alla vecchiaia proprio in questo dovremmo trovare e lui dice e Francesco no la perfetta Letizia di Francesco che arriva al suo al convento dei suoi frati e è respinto mandato via no che stai qui a fare imparare a riconoscere il volto di Cristo che ha fatto simile a noi e quindi provare la gioia di saperci simile a lui che per amore nostro questo è per amore nostro importantissimo non ha ricusato di subire la croce allora passiamo da una spiritualità un po' troppo legata diciamo alla al non al martirio a questa morte cruenta no questo sacrificio non c'è rimissione dei peccati senza effusione del sangue questo è vero però per chi è fatto questo per chi è portato avanti questo per chi c'è l'amore e per amare una persona diventa pazza è capace di cose che noi non sappiamo il secondo è questo svegliati il mondo la nostra caratteristica dice lui è la profezia qui il Papa ha fatto un salto fortissimo perché lui ci ha detto una cosa che noi dicevamo in un altro modo noi pensavamo che la radicalità evangelica fosse dei consacrati e dopo ci aiutavano ancora a uscire più fuori strada dicendo è la vita della perfezione evangelica lo stato di perfezione allora vuol dire che quelli che non sono consacrati sono in uno stato di imperfezione cioè una mamma di famiglia sarebbe meno di una suora questo è una menzogna non è vero non è vero questo e qui la radicalità evangelica secondo il Papa e che a me mi è piaciuto moltissimo però io avevo sentito sempre l'altra cosa la radicalità evangelica è di tutti quelli che vogliono essere discepoli di Gesù tutti non c'è distinzione dal bambino dal ragazzo dal vecchio dall'uomo dalla donna e così tutti noi siamo chiamati a essere discepoli di Gesù però i religiosi seguono il Signore in maniera speciale e qui lui dice in modo profetico e noi possiamo dire nella forma di Cristo allora essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra e qui entrano i tre consigli evangelici che non sono comandamento bisogna ricordare questo anche per quelli che hanno il voto perpetuo non è un comandamento è un consiglio evangelico questo il consiglio è libero la risposta solo può essere libera se la risposta diventa dura pesante non è più di un consacrato e questo correge in noi anche questa dinamicità del seguire Gesù del momento diciamo da adesso del momento attuale della nostra vita allora questa profezia è dove dobbiamo puntare molto radicalità evangelica già si suppone in noi ma con questo modo di essere profetici cioè poveri casti obbedienti e anche su questi tre voti c'è tutto un cambiamento nel modo di vedere quello che abbiamo è un po' troppo poco dopo se posso tocco un po' con queste cose perché il nostro tempo vola molto ma facciamo io spero che ho ancora mezz'ora sì di più sì 35 insomma sì possiamo continuare le donne non ti dicono mai no però girano e ti fanno fare quello che vogliono loro dopo il papa collega anche questo sia dio nella radicalità evangelica nella profezia nel servizio dei più piccoli e qui siamo in una casa che è simbolo di questo allora non dirò tanto ma dovrà essere per tutti noi questo cioè i poveri dovrebbero essere di casa nostra noi abbiamo difficoltà in alcuni posti per questo bisogna cambiare cioè se noi abbiamo soldi se noi abbiamo case è perché i poveri possono avere soldi casa cibo eccetera cioè siamo chiamati per essere vicini a loro perché dobbiamo essere la faccia di dio per loro il papa ricorda questo la terza cosa noi dice i consacrati sono chiamati sono definiti esperti di comunione e su questo punto io mi fermerò un po' di più oggi e lui riprende la bella tradizione lasciata da San Giovanni Paolo II che lui dice che il criterio della vita della formazione dell'uomo della donna nel nuovo millennio è la spiritualità di comunione non dobbiamo dimenticare questo perché è passata l'epoca di una spiritualità solo individuale la spiritualità individuale è molto bella ma è limitata perché mi dà la chiarezza del rapporto con dio ma metti molto nell'ombra il rapporto con l'altro sono sempre io al centro che vado a fare il bene nella spiritualità di comunione non è così non è così e questo dobbiamo imparare tutti noi perché non è facile non è molto facile cioè l'altro adesso non è più solo quello che io posso diciamo fare il bene però io devo uscire da me stesso per poter proiettarmi nell'altro e questa è la prima mossa della chiesa in uscita solo può costruire la chiesa o il vangelo quello che uscendo dal centro lascia dio entrare nel centro che in fondo è il primo comandamento questo e questa cosa dobbiamo riprendere fortemente la chiesa dovrà diventare casa e scuola di comunione questa frase è molto ripetuta casa dove la comunione esiste chiesa e diciamo scuola cioè dove impariamo la comunione i fondatori le fondatrici hanno dato un peso molto grande alla questione della fraternità della comunione e oggi siamo in un momento di crisi giusto per questo perché si è troppo accentuato l'individuo e questo è uno dei problemi di oggi perché nella società attuale è l'individuo che vale ma non l'individuo in rapporto in rapporto solo quello che se non facciamo moriamo però è l'individuo cioè essere il più grande occupare il primo posto avere più soldi avere più tutto quello che vogliamo però non c'è l'altra parte e questo dobbiamo correggere in questo momento attuale nel seguire Gesù il Papa dice bisogna cominciare dall'interno degli nostri istituti dalle nostre vocazioni non pensare agli altri pensare a noi stessi per esempio superare critiche pettegolezze lui arriva a dire che le chiacchiere sono terrorismo no? e lo ripete molto questo è un atto profondamente di malizia perché io distruggo l'immagine dell'altro senza che l'altro sia come non ho parlato a lui invidie gelosie antagonismi adesso abbiamo un caso di due monasteri che sono profondamente divisi tra di loro perché uno si considera il fondatore dell'altro e l'altro si considera quello che conserva lo spirito del fondatore e allora sono divisi cioè lì il Vangelo è andato un po' nella spazzatura sì e sono monachie consacrate nella clausura camminare sul cammino infinito della carità e questo è un imparare non non è cosa è l'altro che ci dà questa possibilità accoglienza e attenzione reciproche non aver paura anche del tocco dell'abbraccio del bacio i primi cristiani si baciavano il problema nostro è il nostro modo di fare le cose non dobbiamo cominciare a accusare subito qualcuno di chissà di non so di omosessualismo o di lesbianismo solo perché va di braccio dato con l'altro queste forme nostre di formare sono fuori strada cioè la chiesa e Dio non hanno bisogno di super uomini e super donne nemmeno consacrati la chiesa ha bisogno di persone normali che vivono come uomini e come donne Dio non ha creato solo l'uomo non ha creato solo la donna ha creato l'uomo e la donna certo bisogna un po' di prudenza quello sì perché altrimenti anche di noi nascono i figli la legge naturale va avanti però con naturalità con naturalità mamma mia certe cose che vediamo no tornare veramente alla comunione dei beni soprattutto noi materiali e spirituali noi abbiamo paura di raccontare le nostre esperienze di Dio perché ah non deve sapere la mano destra quello che fa la sinistra sì prendi anche l'altra parola la luce è messa sopra per illuminare tutti questi che sono nella casa cioè se tu racconti un'esperienza vissuta un'esperienza vissuta dal Vangelo non può essere criticata perché è Vangelo e questo fa crescere te e fa crescere l'altro rispetto per le persone più deboli non separare le persone che sono per esempio già anziani in casi specializzati di di salute solo per quelle che veramente non hanno più forza nessuna forza lì è vero però tante volte noi li isoliamo invece di amarli li uccidiamo perché l'anziano noi li uccidiamo nella solitudine quando lo facciamo essere solo cioè lui non vale più per noi bisogna ricomporre questo anche il Papa dice che bisogna non mettere le suore giovani per curare gli anziani noi stiamo tranquilli perché non che non deve dobbiamo fare questo però non solo questo perché dice tante volte in molte case nostre e lui ha detto questo adesso il giorno primo febbraio abbiamo fatto l'inseminazione artificiale cioè abbiamo trasportato persone per risolvere problemi non per seguire Gesù e abbiamo commesso un grande sbaglio e le giovani o i giovani fanno generosamente le cose però dopo splodono perché sono fuori posto sono usate bisogna far cura di questo le culture diverse recuperare allora questo rapporto di uguaglianza di rispetto di rispetto di amore profondo per tutte le culture comunione tra i diversi istituti sempre il papa che sta parlando progetti comuni di formazione questo mi piace molto già c'è molta cosa tutto quello che è comune nella formazione possiamo fare insieme e alle volte possiamo così qualificare la formazione dopo quello che è speciale del carisma lo facciamo a parte l'evangelizzazione la possiamo fare insieme interventi sociali possiamo fare insieme sinergia tra tutte le vocazioni della chiesa e oltre i suoi confini c'è un bel po' da lavorare no? pensavamo che già eravamo arrivati a un punto buono invece c'è molta cosa da fare dopo lui dice questa questa espressione andare nelle periferie esistenziali che sono di più delle periferie geografiche quando noi andiamo nelle periferie superiamo le piccole beghe di casa bello questo no? cioè abbiamo problemi quando siamo troppo tra di noi è come a casa i fratelli e le sorelle litigano papà e mamma litigano si vogliono bene ma litigano se andiamo verso la missione ci troviamo in un altro posto io giusto per fare questo movimento io sono andato quest'anno a vivere il Natale Capodanno in Mozambico in una comunità a mille chilometri di Maputo nella dioce di Shimoyo una missione lì sono quattro carismi che lavorano lì ci sono anche delle suore ma sono tornato di lì cambiato cambiato non avrei mai aspettato una cosa del genere perché siamo arrivati in un posto ancora dove ancora si vendono e si comprano le donne e i bambini si vendono e si comprano è l'uomo che decide chi vende e chi compra dove c'è la poligamia normalmente dove non arriva il governo cioè non c'è niente non c'è salute non c'è non ci sono scuole e la chiesa è presente lì ho capito cosa significa questo amore della chiesa questa bellezza del Vangelo cioè porta umanità e noi abbiamo aperto anche lì la porta del Giubileo perché il Livesco aveva fatto quella chiesa lì della missione anche la chiesa del Giubileo il giorno di Natale alla sera il giorno 25 hanno trovato un corpicino di una bambina di due anni gettato per terra in un angolo in una crocevia della città della piccola villa avevano tolto il coricino avevano tolto la testa e una mano hanno messo una cedola una moneta di soldi non la moneta l'altra una banconota proprio di quasi nessun valore e scritto non preoccupatevi e sto bene cioè ma io quella cosa non mi esce dalla testa sai di come è possibile e lì abbiamo visto non sappiamo o è la questione della feticceria o è la questione del commercio di organi cioè il Vangelo lì è tutto è tutto cambia tutto noi non possiamo essere tra quattro pareti noi dobbiamo andare non dobbiamo cercare sicurezze dobbiamo andare la presenza in quei giorni lì con le suore io ho potuto per la prima volta adorare in un senso nuovo Gesù nell'Eucaristia perché abbiamo fatto l'adorazione tutti i giorni un'ora io mi è piaciuto stare in ginocchio dico io qui Gesù qui tu sei importante bisogna bisogna trovarti ecco e cominciano piccole cose che aiutano l'uomo non lavora solo lavora la donna tu vedi la donna con un fascio di legna sul capo un bambino davanti uno dietro due bidoni di acqua nelle mani e l'uomo dietro così non si può ma non so com'è questa cosa allora lì dico quanto io ho ricevuto del Vangelo e non lo sapevo non lo sapevo senza giudicare queste situazioni ma andare dietro questo amare queste situazioni essere una presenza e quelli che vengono all'ambulatorio delle suoni dicono noi preferiamo qui che non ci sono tanti mezzi che andare all'altro ospedale perché qui siamo amati ci vogliono bene ma dopo non racconto altre cose perché sono ma è una cosa che ti rovescia ti rovescia a me mi ha mi ha fatto molto bene andare nelle periferie esistenziali ci sono periferie dove non si prega più cioè dove noi abbiamo non abbiamo più allora aiutare in questo cammino della preghiera ci sono periferie in cui le strutture sono diventate troppo pesanti le strutture sociali non sono più evangeliche bisogna distruggerli però non con la violenza con il modo nuovo di fare anche il Papa dice forse la difficoltà più grande sono le nostre strutture personali perché quelle le abbiamo costruite per difenderci proprio del male e invece forse oggi non servono più bisogna come movimentare muoverli cambiarle il riutilizzo delle nostre grandi case in favore di opere più rispondenti alle attuali esigenze dell'evangelizzazione senza paura non svendere i nostri beni come stiamo facendo in tanti posti perché abbiamo bisogno di soldi vedere con la chiesa vedere che questo rimanga dentro la chiesa ci sono delle nostre chiese e dei nostri dei nostri palazzi che stanno diventando casa di prostituzione grossi hotel ma perché perché siamo entrati nel capitalismo noi il problema è nostro litigate tra vescovi e superiori superiori e vescovi alcune litigate sono fortissime se ci fosse qualche qualche arma sarebbe pericoloso lì e qui la grande malattia dice il Papa la autoreferenzialità che noi dobbiamo scacciare l'autoreferenzialità è contraria allo spirito del Vangelo e l'ultima cosa il Papa dice ogni forma di vita consacrata deve interrogarsi su quello che l'umanità e la Chiesa domandano c'è un'apertura verso le necessità le nuove domande allora essere gioiosi essere profeti che svegliano il mondo esperti di comunione andare nelle periferie esistenziali e verificare su cosa Dio e l'umanità oggi domandano a noi un bel programma anche per la Usmi e per la Cisme in questi 15 minuti io vorrei adesso solo dare qualche spunto perché possiamo diciamo entrare di più in questa strada della delle novità di cui ci chiede il Papa io direi così la prima affermazione vorrei dire proprio perché sono convinto di questo consacrati e consacrate chiamati a confessare con la vita la Santissima Trinità se qualcuno vuole rinfrescare un po' l'idea c'è vita consacrata i numeri di 14 a 40 è il secondo capitolo mi pare e allora questa cosa della vita consacrata in comunione cioè il centro è questo guardare la Trinità guardare la Trinità guardare in alto perché vorrei non così non seguire il testo il testo dopo è a disposizione vostra già ho dato ai coordinatori perché guardare alla Trinità il motivo è questo che Dio è uno in tre persone però il primo libro del libro della Bibbia dice anche che Dio è il Genesi Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza però questa sua immagine e somiglianza dovuto a tante cose che ancora non erano mature noi abbiamo pensato sempre all'interno dell'uomo e della donna perché Agostino per esempio parla della Trinità ma riguarda queste tre grandi virtù che abbiamo in noi volontà che cos'altro intelligenza memoria è vero questo è un segno profondo della presenza trinitaria di Dio però non è tutto lì è di più è di più però Agostino aveva già intuito questo ma ha avuto paura perché non c'erano gli strumenti lui dice Dio è l'amante l'amato e l'amore però quando ha detto questo si è un po' come spaventato dice è troppo grande questo lasciamolo lì però adesso questo lasciamolo lì bisogna riprendere perché perché se se noi viviamo secondo il nostro Dio l'uomo la donna l'antropologia non può essere che come Dio è certo noi nella condizione umana lui nella condizione di Dio però bisogna entrare più in questo misterio la filosofia è arrivata vicino a questa realtà però non ha potuto dire questa realtà si è arrivato a dire che la sapienza proviene di Dio che la parola proviene di Dio che lo spirito di Dio ma dire che un Dio esiste in tre persone però non sono tre dei ma un Dio solo questa cosa noi avevamo bisogno di qualcuno che venendo dall'intimo di Dio ci potesse raccontare e questo è il Figlio il Figlio è venuto a dirci qual è la faccia di Dio qual è l'identità di Dio e lui ci parla di un Padre e di uno Spirito Santo e ci fa percepire che lui non è solo uomo ma lui è Dio allora un solo Dio ma tre persone allora non solo unità ma anche diversità e qui c'è diciamo un poco il momento attuale che noi siamo molto sensibili a questa cosa dell'unità e della diversità cioè l'unità e la diversità sono due realtà che l'uomo ha anche noi siamo uno come umanità ma siamo diversi come uomini come donne come piccoli come grandi come razzi eccetera siamo creati per essere in unità e per essere una individualità anche un unico questo unico saremo sempre così ma sempre in rapporto con gli altri e qui è il problema cioè diversi dall'altro ma parte dell'altro l'altro non è separato da noi come le persone in Dio e qui questo uomo questa donna creata all'immagine e somiglianza di Dio allora sono create immagini e somiglianza di che cosa? dell'amore perché Dio è amore questo lo dice San Giovanni nella prima lettera nel capitolo quarto versetti otto ottavo e sedici e l'identità di Dio è la stessa identità dell'uomo se Dio è amore l'uomo e la donna sono anche amore anche noi possiamo dire lo stesso della creazione la creazione proviene da questa fonte che è amore per questo Dio ha visto che tutto era buono nella storia della Chiesa c'è stato sempre questa ricerca di questo mistero diciamo questa realtà profonda e in questo giubileo straordinario Papa Francesco ci spiega questa identità di Dio partendo da Gesù e dal suo volto misericordioso qui il collegamento che volevo fare perché c'è se voi andate al numero 8 della misericordia e vultus voi trovate questa affermazione con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l'amore della Santissima Trinità la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell'amore divino nella sua pienezza Dio è amore afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l'Evangelista Giovanni però l'ha affermato questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù la sua persona non è altro che amore un amore che si dona gratuitamente sempre il Papa le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e irripetibile i segni che compie soprattutto nei confronti dei peccatori delle persone povere escluse malate sofferenti sono all'insegna della misericordia tutto in lui parla di misericordia nulla in lui è privo di compassione bisogna anche dire ma perché lui è buono solo così c'è una gratuità che se tutto nella vita ci rispingesse anche il padre e la madre non ci volessero più bene Dio non ci lascerà mai se uno rimane aperto a Dio lui ha tutto in sé può ricominciare tutto questo dobbiamo imparare molto ancora è un nuovo tempo la stessa dottrina però stiamo capendo queste cose non c'è opposizione tra misericordia e giudizio no anche giudizio e misericordia è impressionante questo come nella Trinità diversità e unità sono essenziali così anche nell'uomo e nella donna diversità e unità sono essenziali cioè noi non possiamo fare a meno di una di queste dimensioni in Dio che amore unità e diversità non sono in tensione ma in perfetto equilibrio questa è un'altra cosa importante per noi così anche nell'uomo e nella donna la diversità è chiamata a diventare unità non in tensione unità vera e qui capiamo come è centrale nella testimonianza cristiana oggi ricostruire bene i rapporti umani come espressione di questa identità cristiana trinitaria cioè rivestire i nostri rapporti dalle sue dimensioni più profondi che è la trinità l'amore la trinità la felicità che noi vogliamo tanto oggi non la potremo trovare se non troviamo questo quante delle nostre case sono prive di amore siamo insieme e siamo solitari siamo insieme e non troviamo fiducia nell'altro alle volte qualcuno di noi muore nella nostra casa e non lo scopriamo solo dopo perché è troppa solitudine dico questo perché a Roma è successo in una casa che hanno trovato il corpo solo un giorno dopo sì peccato questo uno che un'altra cosa anche ho trovato una sfora che mi ha detto una volta dico ho compiuto 50 anni di vita consacrata e nessuno si è ricordato di me ma diceva con un dolore questa sola è già morta adesso ma diceva con un dolore questa cosa dico ma dove siamo andati a finire noi no allora convincerci che la spiritualità individuale è è importantissima ma non è l'unica non basta più non basta più dobbiamo trovare questi cammini della spiritualità di comunione criterio educativo per formare qualsiasi uomo qualsiasi donna questa è una profezia delle più belle del nostro tempo dopo un'altra cosa che io invito voi andare a cercare perché anch'io sto capendo adesso non avevo capito questa cosa la vita consecrata nel numero 20 e 21 ci parlano dei consigli evangelici in rapporto alla trinità anche questo è una cosa che dobbiamo ancora approfondire e questo non dirò perché vorrevo in questi pochissimi minuti prendere la Bibbia chiedere al sorella di leggere per noi Filippesi 2,5,11 la liturgia normalmente comincia questo testo nel versetto 6 vorremmo cominciare nel quinto perché è importante perché la domanda è ma allora cos'è l'amore cos'è l'amore e vediamo un pochino qui perché cogliamo l'essenza dell'amore dopo naturalmente l'amore si incana in tanti modi abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo divenendo simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre alcuni commenti due parole qui importanti questo svuotò umiliò la teologia chiama questo kenosis no? kenosis però non è solo una specie di categoria di Dio la kenosis è l'essenza dell'amore l'essenza dell'amore vediamo nella persona del figlio quando Dio viene e diventa uomo Dio diventa piccolo lui è grande diventa piccolo tanto da essere contenuto dal seno di Maria lui si fa piccolo davanti a noi dovrebbe essere il contrario noi che dobbiamo farci piccoli davanti a Dio invece è lui che si fa piccolo davanti a noi se andiamo alla vita di Nazareth cioè questo del piccolo a Bethlehem diciamo nella nascita è molto ricco perché lui va tra gli ultimi Bethlehem non è capitale Bethlehem è periferia Bethlehem è un posto anche dove lui è in povertà perché non possiede niente e dopo è anche perseguitato e deve andare fuori della patria cioè non è solo essere piccolo ma essere l'ultimo proprio Dio si è fatto l'ultimo è impensabile questo è quello che è il creatore del cielo e della terra perché lui con il padre e lo spirito sono creatori dopo Nazareth 30 anni non si capisce questo silenzio del Vangelo e dopo peggio ancora la croce perché la croce è nel riguardo di Dio una contraddizione c'è un Dio in croce è contraddizione perché la croce è morte Dio è vita la croce è peccato Dio è santità la croce è dolore e infelicità Dio è felicità cioè è tutto il contrario sembra di Dio perché Dio nella croce ecco perché Dio è amore e qui è il passaggio che dobbiamo fare no? non solo vittime per amore ma vittime cioè amore vero come quello di Gesù per amare a noi stessi e agli altri allora non c'è amore se non c'è questa diminuzione questo essere meno per questo anche San Basilio quando ha cercato un'esperienza autentica del cristianesimo all'interno terzo secolo lui vedeva la vita degli eremiti che era bellissima però dice come fa l'eremita ad essere umile non ha nessuno davanti a sé dopo domandava ma come fa un'eremita a lavare i piedi degli altri se solo ha i suoi piedi cioè il Vangelo ci porta verso l'amore questa è la cosa che mi sembra bisogna ritrovare fortemente per essere come Dio non per per essere come Dio infatti l'unica dignità che abbiamo tutti noi è essere figli di Dio non abbiamo io con il sacerdozio noi con il ministero episcopale una persona consagrata questi qua non sono caste nelle quali ci inseriamo il clericalismo la superiorità l'essere il primo non è del Vangelo bisogna dire anche che l'autorità nell'Antico Testamento era sempre vista con una certa sfiducia vedete quando è stato scelto il primo re Saul Dio non voleva il re dice vi farai schiavi cioè è la fraternità che deve venire fuori e qui anche il problema che noi dobbiamo reinventare come essere autorità e come obbedire nel modo in cui stiamo facendo adesso non va più non va più l'autorità che governa da sola sbaglia perché pensa che è un illuminato dalla volontà di Dio non è il Papa dice dobbiamo tutti insieme cercare di seguire Gesù in tal modo che scopriamo quello che Dio vuole da noi e dopo qualcuno che è quello che è il responsabile dice è veramente questo andiamo di qua e questo dall'inizio della Chiesa vedere che Paolo si confronta con Pietro un'obbedienza che dice sì, 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 sì e non dice mai quello che Dio ha detto nel cuore suo questo non è obbedienza scusate il termine questo è imbecillità è imbecillità questa cioè se tu vuoi obbedire deve dire al tuo superiore quello che hai nel tuo cuore e il superiore se è vero superiore deve ascoltare quello che è nel suo nel cuore di qualcuno qualcuno degli altri un superiore che governa senza il suo consiglio non dà la volontà di Dio agli altri da se stessa se stesso questo dobbiamo cambiare in questa direzione della ritrovare la fraternità tutto quello che ci è stato dato ci è stato dato per la comunità non per noi stessi avevamo una superiore generale a Roma che telefonava in Brasile e diceva guardate quell'armadio lì non lo tenete lì in quella camera portatelo nell'altra camera dico ma benedetta donna non ce l'hai nessuna lì che può fare qualcosa sei solo tu che sei capace sì cioè questo è una è proprio un assurdo è un assurdo no tu devi stare qui perché devi imparare l'obbedienza e tu tante delle nostre sore generali escono e non sanno più obbedire questo è un segno cattivissimo io posso citare nomi eh non li cito per amore a voi sì perché vuol dire tu hai due misure su te stesso cosa è questo bene allora trovare il modo di cambiare nell'amore i nostri rapporti e solo essendo piccoli noi cardinali come dobbiamo cambiare il Papa ci ha messo un po' fuori voi siete venuti a Roma ma non per entrare nella corte siete venuti a Roma per far parte della chiesa di Roma eh carissimo i privilegi i tappeti rossi le vetrini gli uomini che sanno tutto potenti questo sta decadendo eh grazie a Dio il prete che sa tutto che lui domina che lui dice quello che è che non è che parla in nome di Dio sì però comincia a essere discepolo di Gesù no? dopo puoi anche dire racconta la tua vita al tuo popolo e questo è un cambiamento forte che dobbiamo fare dobbiamo fare davanti alla parola di Dio davanti all'amore dei fratelli però uscire dal centro andare verso l'altro quando questo amore diventa reciproco si installa la presenza di Dio tra noi questo è stupendo allora lo spirito di Dio ci illumina e lì quello che è responsabile dirà andiamo di qua dobbiamo anche cambiare il linguaggio chi è superiore chi è inferiore nessuno però la chiesa attuale è fatta così non va non va non va va bene io ho finito grazie del vostro ascolto adesso una mezz'oretta ancora di dialogo e di confronto anche per concretizzare i tanti spunti che su eminenza ci ha dato c'è fratello Roberto che gira con il microfono prego l'assemblea senza troppi timori reverenziali di fare le domande giuste non è superiore l'ha detto lui quindi solo una piccola cosa mi sembra che davvero grazie Eminenza per quello che ci ha detto mi sembra che a misura di Francesco ci abbia portato a misura di Gesù e quindi questo è la cosa molto bella e importante in ogni modo lasciamo spazio per interventi che credo abbia un po' suscitato davvero qualche interrogativo qualche anche dubbio qualche qualche piccolo aspetto da anche da chiedere qualche curiosità magari però mi interessava anche quella cosa sui voti che aveva detto di cui avrebbe parlato eventualmente no ma perché lì dobbiamo fare proprio quasi come una tematica propria perché è molto bello è molto bello solo che è ancora un embrione una cosetta bisogna svilupparla guardare ai voti come avendo come fonte la trinità è stupendo cioè una vita secondo il padre il figlio è lo spirito santo è meraviglioso mentre le domande vengono pensate poi formulate la mia non è una domanda è soltanto così una confidenza se volete stavo pensando mentre il cardinale parlava e ci esponeva tutte queste belle cose che capisco perché l'anno della vita consacrata era per tutta la chiesa era per tutta la chiesa è stata quasi l'impressione mia non so una roba un po' da religiosi i religiosi se la vedono loro e l'anno della vita consacrata capisco perché il papa l'ha indetto per tutta la chiesa e qua dentro c'è la vita di tutta la chiesa mica solo delle congregazioni o degli ordini c'è un rinnovamento un cambiamento profondo dentro e fuori le congregazioni e allora ringrazio il santo padre perché l'ha fatto per tutta la chiesa e non soltanto per i religiosi così così anzi il concilio ci dice tre cose diciamo così riassumendo un po' troppo tornare ad essere discepoli di Gesù la prima cosa tornare all'essenziale dei nostri fondatori e fondatrici all'essenziale non alle cose secondarie quelle che sono secondarie bisogna lasciar cadere terza cosa essere aperti per sentire diciamo la voce della cultura dei problemi di oggi queste tre cose sono essenziali certo dopo ci sono gli sviluppi la parola di Dio l'eucaristia eccetera però in questa direzione il Papa dice oggi bisogna tornare a quello che dice Benedetto XVI non si può più evangelizzare per autorità diciamo tu non puoi imporre la religione tu puoi testimoniare allora tu devi vivere in tal modo che il Vangelo diventi attraente attrarre attrarre cioè io vorrei essere come te e questa è l'evangelizzazione perché qualcuno ha dato la testimonianza Don Sabino Vicario Episcopale della Giosi di Torino per la vita consacrata innanzitutto grazie Emienza sono qui Torino sono qui ecco tra i temi che lei ha toccato che il Papa ha toccato e tocca spesso è proprio quello della sinergia tra gli istituti religiosi sono convinto che è il futuro da questa parte per quello che io ne so in Italia di esperienze di questo tipo sono molto molto limitate non penso che si arrivi a una mano ne avanza ancora qualche dita nel mondo come vanno ci sono esperienze di sinergie di intercongregazionali insomma una domanda su questo però guardando una chiesa locale come potrebbe essere Torino ecco io mi chiedo e ci chiediamo come avviare esperienze di sinergia come uscire praticamente dai propri binari di istituto e di istituti che spesso sono in difficoltà e questo rende molto difficile guardare fuori perché le difficoltà spingono a guardarsi dentro e forse più che come avviare mi chiedo chi dovrebbe avviare questo processo secondo me credo che per suscitare sinergie tra istituti un ruolo importante qui a fianco a me c'è un vescovo ecco un ruolo importante ce l'hanno credo i vescovi locali questo un po' la mia la mia convinzione vorrei sentire un po' la sua convinzione a questo riguardo grazie raccogliamo un'altra domanda presentatevi anche quando avete il microfono fra le mani ricordate che questa domanda sono tre domande sì va bene solo una eminenza no no prendiamo anche un'altra se fosse il caso buongiorno sono un novizio salesiano quindi proprio ai primissimi passi piacere salve ci ha parlato prima che spesso le nostre opere sono grandi le case molto strutturate però ha detto che la prima cosa che dobbiamo cambiare sono le nostre strutture interne cosa intende esattamente con questo bella domanda bene allora cominciamo con questo della intercongregazionalità dopo c'è la sinergia e chi chi deve avviare la sinergia intercongregazionalità ci sono molte esperienze già avviate per esempio io solo voglio citare l'ultima perché sono stato presente a quest'ultima mi ha fatto un bene enorme qui in Italia quando la WISG ha fatto 50 anni che è stato adesso pochissimo tempo fa siamo stati lì alla chiesa della Traspontina in Roma nella via della conciliazione e sono stati inviati dieci suore per due comunità che sono andati in Sicilia per gli emigrati e hanno formato queste due comunità di cinque suore di cinque congregazioni diverse per ognuna di cultura anche diversa in modo che loro potessero parlare le lingue dei migranti questa cosa per me è un simbolo era veramente un simbolo per me perché anch'io ero ammirato di questa cosa e partivano con la benedizione dei superiori e partivano con la gioia in faccia questo era un segno per me fortissimo forse non saranno tante esperienze così però questa era adesso aspettiamo il risultato mi ricordo anche quando abbiamo mandato come diocesi a brasilia il primo gruppo di missionari in amazzonia noi della chiesa di brasilia interessante il problema più difficile in quel momento non sono state le difficoltà della missione per esempio dover usare l'acqua alle volte dei fiumi mangiare quello che c'è lunghi viaggi in cui tu rimanevi nella barca così lungo il fiume però il problema più difficile era la fraternità in comunità interessante questo e ci sono state due o tre crisi forti io andavo ogni sei mesi nella missione per non lasciare cadere la cosa e dopo si sono pian pianino e il problema primo è iniziato proprio dai sacerdoti perché erano due sacerdoti e ognuno si è preso metà dell'equipe dei missionari e così si sono divisi cioè manca io non capisco come faremo futuramente noi con la formazione dei presbiteri diocesani lavoriamo sette otto anni dieci anni per la vita comunitaria soprattutto comunitaria appena diventiamo sacerdoti e rimaniamo da soli cioè sarà giusto questo modo no allora questo vale per le due parti noi dobbiamo trovare modi di stare insieme nella diversità la diversità non è contrarietà la diversità non ci impoverisce ci arricchisce l'altro non ci allontana da Dio ci avvicina a Dio e qui bisogna ricordare la frase di San Giovanni Bergman la vita comunitaria è la mia massima penitenza è vero lui ha scelto invece di lasciare di mangiare carne o frutta lui cercava di avere rapporti veri con i fratelli e le sorelle però questa maniera ha lasciato in noi l'impressione che la vita comunitaria è una penitenza questo non è vero la vita comunitaria è la porta per trovare Dio perché tu trovi Dio se sei amore questo bisogna cambiare allora intercongregazionalità è la concretizzazione di questo amore senza limiti che vada per tutto sinergia chi avviarà allora questo spirito siamo tutti noi prima perché dove entra lo spirito di Dio lì comincia qualcosa però bisogna riformare anche i nostri rapporti più alti per esempio non va bene il rapporto tra vescovi e superiori maggiori in modo generale e qui c'è una visione sbagliata riguardo alla Chiesa noi pensiamo che la gerarchia è l'unica grande diciamo nota essenziale della Chiesa non è vero Papa San Giovanni Paolo II ha detto che nella Chiesa ci sono due principi co essenziali co questo ha causato anche un po' di rivoluzione in Vaticano perché dire co vuol dire ugualmente il carisma non nasce dalla gerarchia il carisma nasce da Dio non dalla gerarchia il carisma non è sottomesso alla gerarchia scusate che parli così chiaro Francesco non è andato dal Vescovo o dal Papa per incominciare ad essere Francesco lui ha cominciato con la luce che ha ricevuto tutti i fondatori hanno fatto così dopo perché sanno che sono Chiesa vanno a confrontarsi e nel confronto difendono fortemente la luce che hanno però si adattano a quello che chiede la gerarchia questo vuol dire che lo spirito santo che parla nella gerarchia e lo spirito santo che parla nei carismi non si contraddice non si contraddice è lo stesso spirito allora bisogna bisogna recuperare prima questo profondo senso della comunione ma bisogna ricoperare anche questa libertà che non abbiamo adesso e tutti gli sbagli vengono da qui da una visione sbagliata del rapporto che c'è tra i carismi un carisma che in una chiesa particolare non si incarna non è chiesa però i religiosi non sono fatti per risolvere problemi pastorali sono fatti per vivere il carisma e questo è un altro problema perché noi vescovi perché ho fatto anch'io tante volte questo guardiamo ai religiosi ai consacrati come soluzione dei problemi tante volte non è così non è così loro devono vivere il loro carisma però il loro carisma si inserisce nella chiesa come dono per la chiesa ma questa libertà bisogna che ci sia allora è qualcosa che o noi ricoperiamo nell'amore o sarà sempre tensione tra noi non ti dico dopo quando si tratta di soldi perché nei soldi noi ci allora in questo senso bisogna approfondire le cose il padre il figlio e lo spirito santo non sono sottomessi uno all'altro sono l'altro è diverso sono l'altro l'amore fa questa meraviglia no? e noi dobbiamo arrivare dopo il papa dice guardate che l'unità non è la uniformità uniformità distrugge la diversità l'unità protegge la diversità più siamo più siamo diversi secondo Gesù più siamo uniti cioè il diverso non fa male fa bene però se vediamo così e allora chi avvia questo adesso uscirà la nuova mutua relazione noi settimana prossima ci troveremo con il cardinale Ouellet per vedere un po' già lo schema che abbiamo di 12 pagine più o meno per discutere un pochino e abbiamo aperto i rapporti non solo più superiori e pescovi ma abbiamo aperto su tutte le dimensioni tutte le dimensioni qui anche entrano molto tutti gli istituti femminili eccetera cioè come fare questo rapporto per esempio tra istituti femminili maschile quell'altra questione che c'è sotto anche degli istituti misti perché un fratello non può mai essere superiore di una comunità o dove ci sono i sacerdoti alle volte sono motivi clericali non sono del Vangelo e perché non abbiamo coraggio di cambiare il diritto il Papa dice la vita precede il diritto il diritto è importantissimo però la vita precede il diritto noi ci siamo abituati a cose che sono strane al Vangelo bisogna ritornare al Vangelo allora avviare le nostre conferenze dei religiosi che lavoro bello possono fare in questo senso e queste strutture anche di commissioni miste tra religiosi e diocesi che lavoro bello possono fare bisogna accentuare questo ma non per rivendicare non so che cosa per stabilire questa comunione in cui nessun problema rimane a margine ma lo mettiamo sopra non facciamo come qualche volta facciamo noi lì nella congregazione quando c'è un grosso problema soprattutto di un superiore o di un vescovo mettiamo in cassetto mettiamo in cassetto vediamolo dov'è il problema risolviamolo aiutiamo a risolvere cioè non è possibile l'ultima cosa è quella del nostro novizio salesiano che non ho saputo il nome che bel nome Federico le strutture interne cioè il problema delle strutture interne è quando sono rapportati a noi stessi e rappresentano per noi una sicurezza che non non ha la preoccupazione di cosa chiede il Vangelo lì è il problema cioè le nostre sicurezze dovrebbero esistere a partire della nostra vita del Vangelo quando ci poggiamo sulle nostre costruzioni personali sul nostro individualismo sulla difesa dei nostri diritti no solo e non viviamo per la comunione noi creiamo creiamo un mondo a margine del Vangelo non del Vangelo questo fa male allora bisogna come modificare questo tu modifichi questo se tu capisci che l'amore è la legge della Trinità è la legge della vita e tu non desisti mai di cercare questo amore alle volte è difficile andare avanti non scegliere le persone con cui dobbiamo stare non amare quelle che ci è facile amare non davanti a una difficoltà non smarrire la strada il Papa qui dice molto che lui è preoccupato perché attualmente escono più o meno duemila persone consacrate all'anno della vita consacrata e escono di tutte le età una volta ho raccontato anche non so se ho raccontato anche a voi che una sola di ottant'anni è uscita no? sì di ottant'anni ha scritto a me e diceva così esco e chiedo il permesso per uscire per separarsi della mia comunità per tornare alla vita civile diciamo alla vita così perché devo ancora realizzare il mio sogno di essere madre no l'ha detto lei voglio vivere la maternità ha adottato un bambino povero bambino no? avrà una madre per poco tempo è uscita a ottant'anni ma lei stessa mi diceva perché io sempre ho cercato di sposare però non ho trovato un uomo dico ma benedetta perché non hai detto questa cosa prima no? aiutavamo a trovare un uomo per lei no? così sì allora Federico questa cosa delle strutture interne è importantissimo e qui per esempio dobbiamo far crescere molto la parte umana in noi non aver paura di confrontarsi con la nostra parte affettiva la nostra parte sessuale dobbiamo entrare di più noi uomini e donne anche consacrati dobbiamo vivere più insieme abbandonare quella strada in cui dicevamo tu suora sei un pericolo per me prete perché? perché posso cadere nel peccato contro la purezza dico ma chi sei allora tu sei una bandiera che sventola con il vento non sei qualcuno cioè io ho bisogno della femminilità come uomo e l'uomo ha bisogno la donna ha bisogno del maschile nel senso bello Dio ci ha creato uomini e donne non ho mai visto un uomo nato da un altro uomo è nato dalla donna e la donna pure no? cioè noi dobbiamo ricostruire queste cose con semplicità una comunità dove c'è troppa vigilanza normalmente non c'è maturità c'è infantilità dove c'è libertà e c'è vita evangelica c'è attrazione fortissima e i giovani capiscono questo bene questa è la risposta facendo così le altre strutture noi sappiamo cambiare perché diventiamo più evangelici va bene? così una risposta potrebbero essere anche altre abbiamo ancora qualche domanda e cinque minuti madre Giovanna dà la voce alla domanda di una suora nelle tre lettere rallegratevi scrutate e contemplate e particolarmente nelle due ultime si scorge che vi sta dietro non solo una riflessione orante ma anche una stesura fatta a più mani dando voce alle varie famiglie carismatiche ne risulta una ricchezza multiforme ma molto armonica che non tende a disporre il minimo comune denominatore fra i diversi carismi ma piuttosto la preziosità di ciascuno la stesura di queste lettere è stata davvero un lavoro collaborativo c'è qualche spunto che possa essere imitato nella metodologia di lavoro usata guarda non so chi ha parlato non c'è il nome vero c'è qualcuno che vuole alzare la mano per dire che è stato l'autore di questo non vuole veramente noi abbiamo cambiato metodo ma anche gli incontri a Roma non sono stati fatti da noi cioè noi nel primo momento per esempio l'incontro dei dei formatori noi abbiamo preso rappresentanti dei cinque continenti che erano a Roma che erano formatori cioè vediamo cosa sentite voi e quindi siamo andati avanti per molto tempo con questa riflessione i giovani e lì c'è stato anche un fatto mio abbiamo chiamato i giovani delle varie carismi delle varie continenti culture abbiamo dialogato molto a un certo punto puntavano molto su un programma alla notte per farlo alla notte dalle sette alle undici dico ma siete pazzi questi qua tutto il giorno a stare riuniti a non so che cosa non so che cosa adesso alla notte ancora una volta sbagliavo io vecchione no perché loro mangiano un panino e sono pronti hanno molta forza e una delle cose più belle dell'incontro dei giovani è stata la notte cioè l'adorazione le confessioni anche la quella passeggiata lì quella processione dei martiri una cosa meravigliosa e una gioia io pensavo ma l'altro giorno saranno morti che morti stanno iniziando tutto cioè bisogna che noi cambiamo noi cambiamo superiori che rimangono troppo tempo nelle loro nelle loro cariche rovinano la comunità state una volta massimo due andate via prendete la cucina sì sai una cosa snella libera stai lì perché no non c'è nessuno capace nella mia congress ma che sono tutti imbecilli quelli lì no non può essere così non può essere così per dire allora le lettere sono venute fuori da questo le lettere noi non abbiamo voluto che fossero né direttori né istruzioni né niente abbiamo chiesto al Papa Francesco che fossero carte lettere circolari perché così noi potevamo parlare apertamente e non c'è la responsabilità né della dottrina della fede cioè c'è la congregazione che cerca di approfondire le cose però abbiamo visto che le lettere sono state un strumento molto bello quella per esempio del contemplate a me abbiamo fatto quando abbiamo detto al Papa che la base era il cantico dei cantici lui ci ha guardato così e ha detto coraggiosi eh solo così ha detto però se non attingiamo quel tipo di amore lì non possiamo seguire Gesù e adesso verrà la quarta che già si sta preparando è che è andate andate è la missione no? dopo finiamo è finito l'anno non sono finite le lettere però noi abbiamo questa testimonianza che provengono da tutte le parti ma frutto di un cambiamento cioè non siamo più noi noi vediamo se le cose scorrono se sono secondo il concilio se non contraddicono una parola del Papa quello sì però l'altro no l'altro che si esprima come vogliono sì e guarda che alcuni di questi incontri sono stati difficilissimi quest'ultimo erano cinque incontri insieme molto complessi per gestire questo e noi siamo andati avanti c'è stato solo un problema che è stato delle radioline no? perché abbiamo comperato a porta portesi no? cioè quelle che scadenti proprio perché costava di meno e invece dopo è andato male dimmi ah la questione della messa eh sì però il Papa è venuto però lì bisognerebbe aver diminuito i preti diminuito i quelli che passavano a Roma e lasciare più per i religiosi però non tutto abbiamo in mano noi eh cioè la parte della Basilica ci sono altri che e forse c'è mancato lì di aver dialogato di più questo scusateci eh meno male che il Papa è andato lì a vedere tutti eh sì bene concludiamo questa prima parte e ringraziamo di cuore sua eminenza per l'immediatezza e la semplicità anche delle sue risposte oltre che per la sua conferenza grazie di cuore vi invito tutti a rimanere un attimo in sala ma prima facciamo un applauso al suo eminenza bene adesso do la parola a Fraterno Belto che volevo solo dire una cosetta che riflettendo sulla la frase di 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 Agostino sulla Trinità io l'ho cambiata un po' anche se lì è vero e lui dice tardi ti ho conosciuto bellezza sempre antica e sempre nuova e lui parla della Trinità e io ripeto dicendo tardi ti ho conosciuto vita consacrata sempre antica e sempre nuova ecco questo è bellissimo credo che il grazie per sua eminenza sia ancora più grande in considerazione del fatto che credo l'abbiate percepito tutti sua eminenza è un po' malato oggi è solo un po' di influenza e raffreddore ma ha voluto comunque essere presente e ha sostenuto molto bene la sua conferenza solo aggiungo un ringraziamento a quelli che sono stati già fatti un ringraziamento a tutti i tecnici e permettetemi anche un ringraziamento a tutte le religiose cottolenghine e i religiosi cottolenghini che hanno accettato di non essere qui perché come potete vedere siamo in pochi qui di cottolenghini e hanno accettato di trasferirsi nelle altre due sale purtroppo le adesioni purtroppo per fortuna le adesioni hanno superato abbondantemente le previsioni avevamo anche valutato l'ipotesi di trasferire la sede del convegno a a valdocco dai nostri vicini e amici a valdocco l'unico problema era poi il passaggio dalla porta santa perché come sapete Monsignor Nosiglia ha aperto qui la porta santa delle opere di misericordia e quindi si sarebbe creato un problema maggiore quindi un grazie ai miei confratelli le mie consorelle cottolenghine che si sono trasferite nelle altre sale e un grazie ai tecnici che hanno potuto rendere possibile lo streaming per questo evento l'applauso gli arriva con qualche secondo di ritardo ma solo questione di seconda come le produzioni solo due informazioni allora riprenderemo alle 11.30 ci troveremo tutti nella piazza della piccola casa sotto la statua di San Giuseppe Cottolengo dove c'è la fontana dell'ingresso perché lì inizieremo il rito indulgenziale del passaggio della porta santa lì i sacerdoti dovranno essersi già parati per cui invito soprattutto i vescovi e sua eminenza a venire in sacristia prima e poi inizieremo il rito dalla piazza attraverseremo la porta santa e poi proseguiremo con la santa messa fino alle 11.30 per chi lo desidera qui subito fuori cioè uscendo dalla parte alta del salone e rientrando immediatamente nelle scuole Cottolengo è possibile per chi lo desidera prendere un caffè o qualcosa di altro di caldo o di freddo quindi per chi lo desidera è possibile un attimo di ristorazione qui sotto ci sono i bagni qui alla mia destra in basso oppure in piazza credo di aver detto tutto alle 11.30 puntuali ci ritroviamo in piazza grazie 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 grazie